Da Lodo Guenzi a Sabrina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, da Massimo Ghini con Paolo Ruffini a Sergio Castellitto. Così si alza il sipario della nuova stagione del teatro Signorelli di Cortona. 12 gli spettacoli del cartellone suddivisi nei consueti due turni che prenderanno avvio dal prossimo 24 novembre. È stata confezionata una stagione di primissimo piano con grandissimi attori della scena nazionale. Poi abbiamo voluto introdurre anche dei concerti di due orchestre, l'Orchestra Giornale Toscana, la nostra core orchestra per il periodo pasquale e anche due appuntamenti con la danza. Quindi abbiamo cercato di offrire un cartellone quanto più eterogeneo possibile ma soprattutto che potesse richiamare ancora di più gli abbonati e ovviamente gli spettatori nel nostro teatro. Non solo spettacoli a Cortona ma anche arte in ogni sua forma. Fino al prossimo d'ottobre prosegue infatti Cortona in arte, appuntamento dedicato agli appassionati d'arte che desiderano avvicinarsi ed approfondire la propria conoscenza dell'arte contemporanea. Per ben due settimane al centro convegno di Sant'Agostino e al teatro Signorelli di Cortona, importantissima perché appunto ha raccolto oltre 40 artisti di tutta Italia di primissimo piano e non solo. E oltre ciò abbiamo anche sempre Guernica con Picasso e la collezione del neorealismo in comodato d'uso al comune di Cortona, la collezione Ubaldi in grosso, sempre a Palazzo Ferretti. Quindi Cortona finalmente torna protagonista anche nel settore dell'arte contemporanea. Grazie.